È uscito Rivoluzione 78, su questo numero. Palestina ancora in fiamme. Contro l'attacco israeliano a Gaza serve una lotta di massa che superi le frontiere nazionali. El Paro no para. Il movimento in Colombia riesce a piegare il governo, ma lo scontro va avanti. Il 30 giugno riaprono i licenziamenti. Serve una battaglia per difendere il lavoro e un programma per vincerla. Il recovery plan non risolve niente. Un'analisi del piano e degli effetti su scuole sanità. E ancora, riesplode la questione nazionale in Irlanda. Il piano economico di Biden. Coordinare le lotte nella logistica. No alle bocciature a scuola. Rivoluzione è la voce dei giovani e dei lavoratori che lottano contro il capitalismo. Leggilo, discutilo, diffondilo con noi. Abbonati per ricevere la copia digitale e cartacea a partire da un euro al mese. Vai su www.rivoluzione.red.com Rivoluzione.red.com